L'asino e il bue, con il loro fiato, sono l'impianto di riscaldamento e nella mangiatoia c'è il neonato. Maria ha più coraggio che non anni, Giuseppe invece è un falegname esperto, dei veleni su lei non se ne cura e c'è per segnaletica una stella, Erode fa una pessima figura. Grazie.